Prende via quest'oggi la 22esima edizione della Luzzi Sambucina, crono scalata valevole per il trofeo italiano velocità montagna organizzata dalla scuderia Cosenza Corse che si terrà come ormai tradizione nel comune di Luzzi in provincia di Cosenza. Questa è una gara molto bella, molto sentita dai cittadini di Luzzi, dagli sportivi, dai peloti, da tutti, veramente abbiamo trovato un affiatamento bello perché tutti ci stanno dando una mano. La novità di questa edizione è che abbiamo migliorato il percorso perché abbiamo messo più nuggersi, più sicurezza, quindi la sicurezza sia per il pubblico sia per i peloti e questa è una cosa fondamentale per questo sport. Abbiamo 151 iscritti e quindi significa che hanno sentito questa partecipazione massiccia a questa gara. Tra i partecipanti anche il giovane Domenico Scola, pilota Cosentino e fresco vincitore del titolo di campione italiano velocità montagna. Vincitore tra l'altro anche delle ultime cinque edizioni di questa crono scalata. Sì, è senz'altro un appuntamento alla quale non manchiamo mai, né precedentemente dalla mia famiglia, né negli ultimi 5-6 anni io. È un tracciato che ha sempre un gusto particolare per noi, quindi veniamo qua sempre con piacere per onorare i numerosi tifosi che ci sono e anche per la splendida organizzazione che la contraddistingue a tutte le altre gare. Sì, quest'anno l'appuntamento di nuovo è la prima domenica di ottobre, è un appuntamento importante, fortemente voluto da questa amministrazione, è la prima crono scalata.